Sindaco, è ufficiale due palestre di due importanti scuole di Pescara, la Rossetti e la Foscolo, mettono a disposizione due palestre per poter fare effettuare le vaccinazioni ai ragazzi e anche ai genitori degli studenti? Sì, noi avevamo già messo a disposizione le palestre di alcune scuole tramite i dirigenti scolastici per portare avanti quel progetto di vaccinazione stabilito dal Ministero in collaborazione con la ASL per i ragazzi da 12 anni in su e oggi mettiamo a disposizione altre due palestre per la seconda dose di vaccino per i ragazzi che già hanno fatto la prima dose ma anche per eventualmente chi volesse vaccinarsi per la prima volta e anche per i genitori dei ragazzi. A 360 gradi la palestra è a disposizione, ovviamente sempre controllata dalla ASL questa attività è sempre diretta dal Ministero, il Comune mette a disposizione degli spazi proprio perché nell'ottica già utilizzata per il centro vaccinale Pescara vuole che più persone possibili si vaccinino nell'ambito e nell'alveo della normativa vigente, dei regolamenti vigenti e quindi siamo come al solito in prima linea per cercare di risolvere i problemi dei cittadini. Dal proposito lei nei giorni scorsi aveva sollecitato a gran voce la ASL per trovare un hub vaccinale per aprire una sede a Pescara visto che i cittadini di Pescara devono oggi recarsi a Città Sant'Angelo la soluzione è vicina? Sì, quando noi abbiamo chiuso il centro vaccinale, il palafiere di Via Tirino dopo aver fatto oltre l'80% dei vaccini nella nostra città ho consigliato alla ASL di aprire un centro anche più piccolo visto che oramai quasi tutti erano stati vaccinati anche in prospettiva della terza dose loro hanno preferito aprire subito a Città Sant'Angelo ma questa idea era stata già esplicitata chiaramente da parte mia poi ho sollecitato ma ho trovato una ASL sempre molto disponibile per i problemi della città di Pescara adesso nei prossimi giorni sicuramente troveremo un punto di incontro per fare in modo che anche a Pescara ci sia un centro vaccinale